Holy Grail Ciao a tutti ragazzi sono Lely Rem e bentornati in un mio nuovo video si ho i capelli celesti, si paro una Wins però tornerò a Bionda le prime settimane di settembre quindi è stato una specie di esperimento ma la cosa più importante è che in questo video parlerò dei palestrati o più che altro chi va in palestra allora ragazzi mi sono iscritta in palestra da un po' in realtà e ogni volta che ci vado non posso fare a meno di non notare i palestrati, poi c'è anche chi nullo è capito? che mentre fanno gli esercizi fanno dei versi come se lo stessero letteralmente prendendo in culo da due persone cari ragazzi volevo dirvi che non è che se voi fate questi versi alla Hulk significa che il vostro allenamento sta andando alla grande cioè svegliatevi perché ragazzi prendete più aminoacidi che figa ve lo assicuro che poi io non capisco si fanno più lampade loro di Carlo Conti e quindi poi quando tu vai in spiaggia e vedi tutti questi cioè che mi sembrano vu comprare tutti i fighi con questi petti di pollo in vista a me mi sembrate delle cotolette panate cioè tra l'altro mi viene pure fame a guardare voglio dire poi io non capisco perché come una persona si iscrive in palestra sente il bisogno di dichiararlo apertamente sui social ragazzi mi sono iscritta in palestra e sti cazzi ho fatto palestra si l'iscrizione perché dopo due settimane da quel fantastico post non si hanno più notizie cioè nessuno pubblica più stati sulla palestra quindi fammi capire la vostra palestra dura due settimane mi sono iscritta faccio la foto dico che ci sono stata bene basta poi ci sono quelle che vengono in palestra alla drag queen cioè tutte truccate come se stessero andando non so al gran galà praticamente Yume in tutto questo è d'accordo con me vero? si eh vedi pure lui perfetto cioè voi che andate tutte truccate pettinate vestite bene in palestra ma mi fate capire una cosa ma andate a cercare piselli o andate ad allenarvi cioè lo specchio ha visto più selfie che allenamenti fatti dai muscoli cioè alla fine vedi tutti questi muscolosi tutte ste brande capito? cioè poi alla fine magari in mezzo alle gambe hanno pure il cazzetto cioè della serie tutti muscoli niente cervello ragazzi però posso dirvi una cosa invece dei muscoli fatevi crescere il cervello che vi assicuro rimorchiate molto ma molto ma molto di più così grazie comunque ragazzi anche questo video è finito e io qualcosa la dovevo per forza comunque dire ragazzi cioè la mia palestra pare un esercito combattente del cavaliero oscuro cioè tutti che porco giuda manco nei video porno sentiste i versi ma veramente state facendo ma veramente ragazzi cioè io mi alleno boh cioè non lo so e poi ci stanno i ragazzi che passeggiano cioè non si sa che fanno passeggio tutte truccate tipo cioè perché se volete andare in murchiata andatevi in discoteca che cazzo c'è stata a fan palestra comunque va accoppiato proprio bene cioè è fantastico comunque ragazzi il video è finito vi saluto qua e c'è anche Yume che fa da qualche parte e noi ci vediamo al prossissimo video e spero di avere i capelli biondi per quel video ciao ragazzi FOLIGRAN FOLIGRAN